Ciao ragazzi, benvenuti al mio terzo tutorial di Photoshop. In questo tutorial impareremo ben tre cose nuove. La prima sarà come andare a eliminare lo sfondo da un'immagine, e quindi come togliere lo sfondo a questo hamburger. La seconda sarà come cambiare colore ad un oggetto, in particolar modo cambieremo colore al vestito di una modella. E in terzo andremo a vedere come effettuare una tipologia di scontorno molto molto complicata, ad esempio su dei capelli mossi, dove appunto la selezione è molto difficile. Dopo di ciò trascineremo la nostra selezione complicata in un collage, concludendo il tutorial. Iniziamo dalla prima cosa da imparare, come scontornare questo hamburger, un oggetto, in pochi clic. Allora, andiamo ad utilizzare il nostro strumento di selezione rapida, e poi cliccheremo seleziona soggetto. Benissimo, ovviamente voi potrete anche andare a selezionare manualmente se avete tanti soggetti. Una volta ottenuta la nostra selezione, andremo a cliccare qui in basso l'icona maschera. Benissimo, con pochi clic abbiamo ottenuto il nostro ritaglio. Abbiamo eliminato lo sfondo e il nostro oggetto appunto si può tranquillamente trascinare in un nuovo progetto. Se poi volete salvarlo senza sfondo, basterà fare file, salva col nome e lo salverete in png. Mi raccomando, non salvatelo in jpeg, se no otterrete un'immagine con lo sfondo bianco. Facciamo un altro tentativo. Proviamo a scontornare questo cappuccino. Utilizziamo di nuovo il nostro strumento di selezione rapida, seleziona soggetto. Con un clic abbiamo direttamente effettuato una selezione, e poi basterà cliccare in basso a destra la maschera per ottenere il nostro cappuccino ben ritagliato e senza sfondo. Perfetto, e poi vabbè, potete salvarlo. Questa era la prima cosa da imparare, adesso passiamo al secondo argomento. Come cambiare il colore di un oggetto. In particolar modo andremo a cambiare il colore di questo vestito. Prendiamo sempre il nostro strumento di selezione rapida, andiamo a cliccare sul vestito, come vediamo con solo i due clic ho selezionato perfettamente il vestito dalla modella. Adesso però andiamo ad espandere un po' la selezione. Come facciamo? Con seleziona, modifica, espandi, un pixel. Quindi perché sono andato ad espandere la selezione di un pixel? Perché se non l'avessi fatto, quando io sarei andato a cambiare colore, i bordi sarebbero rimasti blu. Espandendo la selezione, in questa maniera io permetterò di colorare anche i bordi. Perfetto, adesso che abbiamo la nostra selezione, dobbiamo andare qui a destra a regolazioni e andiamo a trovarci tonalità e saturazione. Come vedrete ci avrà creato la nostra regolazione di tonalità e saturazione con una maschera. La parte bianca è l'unica parte considerata, cioè la selezione, e quindi il vestito. Quindi ora basterà muovere questa icona di tonalità per andare a cambiare il colore del vestito. Io ad esempio lo farò viola. E adesso posso già salvare l'immagine. Questo è il metodo rapido per cambiare colore a un oggetto. Ovviamente io sto facendo dei tutorial molto molto semplici e rapidi, ma è normale che ci sono dei tutorial più avanzati per togliere ogni minimo difetto. Ma passiamo all'ultimo argomento. Come facciamo a effettuare una selezione di questi capelli svolazzanti? Ovviamente andare a fare una selezione con un tracciato con la penna sarebbe praticamente impossibile. Quindi io applicherò un metodo abbastanza semplice, che sarà quello dell'utilizzo dello strumento di selezione rapida e selezione soggetto, come abbiamo fatto prima. Adesso però, come vediamo, la selezione non è ancora perfetta. Dovremo andare a migliorarla. Come vedrete ora l'icona ha il più, con il più aumenta la selezione. Tenendo premuto Alt invece diventerà meno e andrà a ridurre la selezione. Ho cliccato male. Come vedete col meno io posso migliorare la selezione. Ovviamente io farò un lavoro rapido, dozzinale. Voi fate un lavoro più approfondito per ottenere un miglior risultato. Io appunto sto facendo un video dimostrativo, quindi sarò poco preciso. Benissimo, benissimo. Torno indietro. Ok. Diciamo che ho fatto la mia selezione. Forse qui un pochino. Bene. Voi dedicatevi di più. E fate una selezione perfetta. Ok. Una volta ottenuta la vostra selezione, dovete fare selezione maschera qui in alto. E come vedete avremo tolto tutte le parti difficili. Seppur ci sono ancora dei difetti, vediamo per esempio qui sotto l'ascella o il dito non è venuto bene, si possono però correggere. Abbiamo due strumenti che ci vengono in aiuto. Il primo è il pennello miglior a bordo. Il secondo è strumento pennello. Appunto il pennello miglior a bordo, questo qui, ci permette di andare a migliorare la nostra selezione, andare a cancellare le parti, diciamo, in più che non servono. Possiamo andare anche qui tra i capelli, un po' qui, possiamo migliorare un po' ovunque. Benissimo. Una volta tolto le parti in più, possiamo ricostruire con quest'altro strumento, lo strumento pennello, le parti invece che sono state erroneamente cancellate. Ovviamente massima cura nell'effettuare queste situazioni. Qui c'è pure un dito non ben ritagliato, forse anche un po' la punta. Benissimo. E posso andare un attimino anche a correggere. Bene. Benissimo, penso che ho avuto un'ottima selezione. Poi potete anche andare un po' a sfumare, fare un contrasto, potete andare a fare sposto a bordo. Ovviamente verificate, poi zoomando, che avete lavorato bene. Dopo che avete fatto tutto quanto, potete cliccare OK. Benissimo. E abbiamo la nostra selezione. Per togliere lo sfondo, basterà fare livello, nuovo, crea livello copiato. Se togliamo l'occhio dallo sfondo, vedremo che abbiamo la nostra selezione perfetta, fatta tra i capelli, e quindi la nostra selezione difficile e riuscita. Adesso andremo a mettere questa selezione in un collage. Basterà trascinarla. E come vedete, abbiamo il nostro collage di moda con la nostra bellissima Blake. Modifica. Trasformazione libera. E poi cliccate qui per non deformare il soggetto. Benissimo. Questo è stato il mio terzo tutorial di Photoshop. Spero che vi sia piaciuto. Ciao e al prossimo video.